Correva l'aprile del 2022 quando le telecamere di Rossini TV si accendevano su un'area di Apsella di Monte Labate su segnalazione di un neo-residente della zona che si domandava perché quella gru destinata a cantieri edili stesse lì da anni a lavori conclusi da tempo. Segnalazioni che Rossini TV rigirò all'amministrazione comunale impossibilitate a intervenire direttamente con la rimozione ma impegnatasi nell'occasione a sollecitare la ditta privata a rispettare le relative normative in tema di sicurezza sul lavoro e occupazione di suolo. A diversi anni di distanza e altrettanti mesi di silenzio questa settimana si è smontata quella gru che era diventata una sorte di torre poco estetica a presidio della zona non distante dal centro commerciale Le Matite. Rimozione che però non è ancora completata e con la base di sostegno restano ancora i tanti materiali edili accatastatisi fra ferraglie in via di arrugginimento. Una situazione né bella né ecologica né sicura che si auspica continui in un progressivo sgombero. Segnalazione che all'epoca accese l'attenzione anche sulla presenza di un silos abbandonato al fianco di un capanno fatiscente nella poca distante via Galilei. Altra situazione su un terreno privato, altra situazione degradata che resta tuttora in sospeso.